Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di un 57enne e di un 44enne, entrambi liberi, gravemente iniziati dell'omicidio di Scenzo Pietro, ucciso nell'androne del cortile della propria abitazione, con 11 colpi di arma da fuoco esplosi su una pistola calibro 9 in Vicopace di Castellammare di Stabia il 18 novembre 2006. L'ordienno provvedimento trae spunto dall'arresto di Rapicano Pasquale, operato dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata il 6 febbraio 2020, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, con riferimento alla sentenza con la quale, in data 28 novembre 2019, ha condannato proprio il Rapicano Pasquale alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi 6, poiché è responsabile dell'omicidio Scenzo. L'attività investigativa, sviluppata da gennaio 2020 a novembre 2020 dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata ed integrata da intersezioni telefoniche, servizi di osservazione controllo e pedinamento, non chiedere dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, ha consentito di far luce sull'esatta dinamica dell'omicidio perpetrato con particolare feroce premeditazione, accertando che i due arrestati avevano decretato la morte di Scenzo Pietro per il tradimento determinatosi con il suo passaggio nelle fila del carrivale degli Omobono Scarpa, per conto del quale stava gestendo lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere centro antico di Castellammare di Stabbia. Le indagini hanno permesso di ricostruire le fasi in cui il gruppo di fuoco composto da Rapicano Pasquale, guerriero Vincenzo, poi suicidatosi nel carcere di Benevento nell'anno 2017, e Sansone Esposito Antonino avevano seguito la vittima studiando nei movimenti, le frequentazioni e gli orari di ritorno presso la propria abitazione, individuando insieme ai mandanti le strategie per recuperare le armi utilizzate per l'omicidio. Per consegnare al materiale esecutore e per occultare la termine dell'azione di fuoco. L'omicidio di Scenzo Pietro, alias Onasone, avvenuto proprio nel centro storico di Castellammare ed attinente ad una fase di guerra tra clan estremamente violenta e caratterizzata da numerosi eccellenti delitti, integrava la finalità mafiosa di affermare il predominio del clan d'Alessandro nel territorio di Castellammare di Stabbia ed il suo pieno controllo delle relative piazze di spaccio a scapito del carrivale Homo Bono Scarpa.